Primo col primo, dici che è? Frustata! Guarda, questo è un piccolo, grazie. Allora, eccezionale amici, Frusto è tutto... metallo, da filato, cotta, lega. Uno spettacolo. Dici, ma chi sono? Sono inventato Frusto, italiani? Sì, l'allero, i romani. Questo va dal Giappone, sono inventati i giapponesi e quelli c'hanno tutto piccolo, ma c'hanno una capoccia così. Ma che scherzi? Dici, che ci fai con Frusto? Eh, a semillo. Tante cose! Che ne so, mo' bella estate, vuoi fare una bella scenestima, una bella volenta? Frusto, te la mescola? Poi, grazie a un particolare prevento, Frusto gira da una parte e anche dall'altra. Dice, come faccio? Come fai? Gira a sta parte, ma lo devi stare a togliere, e l'animale ci da questa, la mia è che ce l'ho. Da vero. Ancora, che ne so? C'avete un animale? Un gatto, un cane, un canarino, che voi siete tanto sensibili, gli animali mi piacciono, che lo so. Frustotelo a destra? Quando il cane ne va, vivi per terra? Deo ghiami? E me re, fufi? Eh, vieni da me, me re, vieni qua come, mi sa, avvicina, PAM! Gli dà una botta sul muso, a fargli male, però. Il animale è intelligente, lo capisci? Così, la prossima volta, non solo non te fa, vivi per terra, ma barbaglia, se la te la volete, ti dira pure l'arco, andate a me, e io, da me lo sciocco, e me la faccio metà la volta, per dire. Ancora, amici, che mi so, c'avete un momento difficile con l'arcore? Una botta del muore, capire a fare la primavera, di la primavera. A me sta buona, va. Grazie a un particolare scomparto per le pille, Frusto Vibra! Per farmi data, tanta compagnia, amici. Che spettacolo. Dai, ragazzi, sei generosa. L'ultimo ciclo telefonato, invece di regalare le pille per ricaricarlo, cosa che consuma del sol, sì. Dai, marica, notte delle telefonate mancano, ma, marica, sì, magari spegni per frustarmi, dici quanto è la tua domanda, ammazza l'uomo. Vabbè, andiamo avanti, va.